Una bruttissima storia ancora una volta nei confronti di una donna, di una giovane donna. Questa ragazza ha avuto la sfortuna di incontrare sul suo cammino questo giovane ragazzo, anche lui della stessa età, più o meno sono entrambi delle 86-87, perciò sono coetanei. E lui purtroppo per una questione di gelosia, di abuso di alcol, abuso di droghe, dal 2011 ad oggi ha continuato a picchiarla, a maltrattarla in qualche occasione anche ad abusarne sessualmente contro la sua volontà e tutto questo all'interno delle mura domestiche. Da quello che è nostra conoscenza anche la stessa ragazza ci ha riferito che è macchinista presso le ferrivi dello Stato ed è una lunga serie di precedenti di polizia, tra cui appunto l'uso di droghe. La denuncia è arrivata solo, l'ultimo episodio, forse tra quelli più gravi, dove lei è stata ricoverata ancora una volta in ospedale e grazie a un suo parente, tra l'altro è il convivente della sorella, che si è portato nel nostro ufficio a raccontarci la storia. Lei purtroppo è andata in ospedale moltissime altre volte, ma ha sempre riferito di essere caduta accidentalmente o si era lesionato per altri motivi.